il nostro dio ma è stata una bella cosa ragazzi vero per te è una bella cosa lo dico davanti alla telecamera che registra no no non fatemi sapere la porta per scapinarla bello è vero si reggi sta registrando mi ti vici no mi dico no questa situazione sono proprio stupidi non è davvero se non mi hanno fatto vincere il panda qui o si ravviva la scuola c'è una quantità di gatti impressionanti che spettacolo guarda i belli questi qua li hai visti? nooo quelli guarda che spettacolo si è già un po' apriti no cavolo entrano dentro quelle prese che spettacolo che spettacolo ecco guarda mette la testa fuori riesce eh sto figli di quello la guarda quello la è tutto chiaro in quel modo c'è la testa fuori c'è la giù no ha riuscito tutto è là dietro si vede? si sono paurito è andato dietro è giusto noi no di quello la è giù si di quello la scappano subito si vede lì andando a mangiare che vedi la scappano? ma che vicino? eh sono tira da qua c'è una zanzara tigre mi ha messo appoggiato sul dito eccolo là dietro guarda vedo se si vede quello non è meno pauroso questi vicini sono più paurosi bellino dio l'orecchio si è imbantato guarda allora ma si è girato voglio quello senza flash se no allora c'è il coraggio no sta facendo la faccia allora e quindi devo aspettare ah 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 Grazie